Immagino che la domanda sia perché un podcast sulla valutazione di impatto ambientale? In che modo emerge un'attenzione per la biodiversità all'interno dei progetti? Potremmo prescrivere ai proponenti come una sorta di posologia per i farmaci. Prima di intraprendere una valutazione di impatto ambientale, seguire il vostro podcast e le istruzioni per l'uso, così comunque riesco a magari fare in quest'ottica giusta, non dico un po' ludica, ma un po' più serena e anche un po' più spigliata. E soprattutto parliamo di grandi opere, quindi come autostrade, ferrovie, porti, dighe, tutte opere che influiscono sulla vita quotidiana di ogni cittadino. Incontri sulla via. Punti di vista sulla valutazione di impatto ambientale. Ciao, sono Viviana Lucia di Ispra della sezione Via. e siamo qui a questo nostro incontro audio in podcast per parlare con i protagonisti della valutazione di impatto ambientale. Abbiamo avuto questa idea strana di parlare della valutazione di impatto ambientale in un podcast. È un'idea appunto per aprire questa tematica ai cittadini, a chi può essere interessato. E quindi così ci ritroviamo con questo ospite d'onore. Siamo qui con Paola Brambilla. Sono felicissima di averla qui con me. Capirete perché. Allora, Paola, tu chi sei? Allora, Paola Brambilla, sono un ecoavvocato prestato alla Commissione Nazionale di Valutazione dell'Impatto Ambientale che adesso ho l'onore di presiedere. Anzi, mi complimento per questa iniziativa perché avvicina qualcosa che magari viene visto come burocrazia ai cittadini che tengono veramente tantissimo al loro pianeta, alla loro natura e che è nostro compito riuscire a salvaguardare nel mentre della valutazione e dell'approvazione di progetti che fanno anche la differenza in termini di sviluppo e quindi anche in termini di promozione dei diritti fondamentali dell'uomo. Perché dicevamo l'altro giorno che questo lavoro è un po' una missione, è vero? In un certo senso sì, non solo per la quantità di tempo che occorre dedicare a questa analisi approfondita dei progetti, ma perché occorre farlo in scienza e coscienza, quindi con la capacità di valutare un progetto per quello che può offrire, ma soprattutto con un'attenta e lucida analisi dei luoghi in cui un progetto si cala, delle popolazioni che dovranno comunque confrontarsi con i vantaggi dell'opera, ma anche con le difficoltà della cantierizzazione o comunque di quello che seguirà la realizzazione dell'opera, conoscendo i luoghi. E la cosa bella di questa procedura, che non è una procedura asettica condotta a porte chiuse, è una procedura partecipata in cui anche il singolo cittadino può intervenire e dire la sua, raccontare le sue preoccupazioni, esprimere anche una conoscenza dei luoghi maggiore di quella che può avere un progettista, uno dei nostri commissari che pure, mi piace dire, sono professionalità con dei profili scientifici di altissima caratura, capaci di coprire veramente tutti gli aspetti dello scivile che possono essere legati all'opera, quindi la considerazione della biodiversità, gli aspetti tecnici, gli aspetti di emissione, la cantieristica, i trasporti, questo ci consente di avere questo approccio multicriteria, si dice, che ci aiuta a valutare attentamente l'opera per quello che effettivamente potrebbe essere e sarà. Quanti anni sono che sei in Commissione Emilia? Quattro anni. Sono appena stata riconfermata per altri quattro anni nel prossimo mandato. Quindi hai visto tanti progetti, che cosa ci fanno vedere, immaginare per il futuro del Paese questi progetti importanti? Allora, questi progetti, soprattutto dopo il periodo Covid, che ha fatto veramente la differenza sia per i cittadini ma anche per il mondo comunque dell'impresa pubblico o privato, ha cambiato il modo di progettare, si è più consapevoli della dimensione integrata salute ambiente, quindi questa dimensione che viene chiamata One Health e quindi anche l'attenzione del committente e del progettista cambia, diventa più aperta a recepire altre considerazioni e nell'approccio che noi come Commissione portiamo avanti abbiamo sviluppato questa modalità di incontro col proponente, tra l'altro tutti incontri video registrati all'insegna della trasparenza, non c'è miglior disinfettante della luce del sole e in questi incontri spesso e volentieri noi, non dico che coprogettiamo perché è una parola grossa, ma nasce un confronto con il proponente per dire questa mitigazione, prevedila già all'interno della progettazione, questo aspetto compensativo che fa la differenza anche in termini di accettazione dell'opera, interiorizziamolo già ora senza aggiungere alla fine come una specie di cerotto, la vecchia logica della valutazione di impatto ambientale, approviamo l'opera e poi se qualcosa non funziona ci appiccichiamo qualche mitigazione e compensazione. Adesso questi concetti sono cambiati e diventano invece parte integrante di un processo di confronto che viene innervato anche dalle considerazioni del pubblico e dei cittadini. Abbiamo chiesto anche a dei progettisti che hanno partecipato al nostro podcast e dicevano proprio questa integrazione che hanno all'interno dei loro gruppi di lavoro, quindi è bello vederlo anche, leggerlo perché tu l'hai letto, loro lo fanno e si legge, emerge. Poi l'attenzione ai cambiamenti climatici è una cosa che vogliamo condividere con chi ci ascolta perché se ne parla tutti i giorni. Che cosa c'è dentro questi progetti? Sono attenti? Come è cambiato l'atteggiamento? Generalmente sì anche perché appunto l'Unione Europea e anche lo Stato italiano e anche Ispra nelle linee guida prevede una particolare attenzione alla valutazione degli impatti del cambiamento climatico sulla cantilizzazione, sulla progettazione e sul monitoraggio degli effetti dell'opera. Pensiamo a un invaso idrico che deve affrontare i problemi magari di problematiche legate a periodi di magra, quindi accumulo anche di sedimenti. Pensiamo per esempio a un'infrastruttura lineare, stradale o ferroviaria che deve affrontare gli scenari di altissime temperature che quindi comportano l'utilizzo di particolari materiali, l'attenzione a sollecitazioni che prima non c'erano, la realizzazione di opere in contesti magari a rischio idrogeologico dove il rischio idrogeologico viene quintuplicato dagli effetti di precipitazioni con la frequenza e l'intensità che oggi abbiamo. Quindi questi aspetti devono essere necessariamente considerati e l'attenzione è sicuramente innalzata e ovviamente è particolare compito della Commissione dove questi aspetti siano sottovalutati richiedere al proponente di implementare la valutazione di questi aspetti all'interno dello studio di impatto ambientale e soprattutto all'interno del monitoraggio perché spesso e volentieri le sollecitazioni, le modifiche, le problematiche causate dagli effetti dei cambiamenti climatici sull'opera si verificano nel corso dell'esercizio dell'opera, quindi la valutazione non è più perdonatemi una botta e via, ma è un percorso circolare in cui la Commissione ritorna periodicamente a valutare l'efficacia di questa considerazione ambientale dell'opera attraverso il monitoraggio anche dell'esercizio dell'opera stessa. Adesso visto che siamo Ispra, la domanda è d'obbligo, le nostre linee guida che sono in aggiornamento sono state pubblicate nel 2020, prevedono una struttura, insomma mi sembra che i proponenti seguono abbastanza, si vede questo, c'è un'uniformità nella documentazione che presentano oppure c'è ancora qualcuno outsider? Allora nella storia delle civiltà umane ma anche i primati il modo migliore per crescere è imitare le soluzioni vincenti, quindi il fatto di avere a disposizione delle linee guida, quindi un protocollo a prova veramente anche di neofita, è uno strumento fondamentale perché descrive in modo compiuto i passaggi che devono essere condotti nella preparazione dello studio impatto ambientale della documentazione progettuale per riuscire ad avere una valutazione nel minor tempo possibile, perché il fattore tempo oggi è diventato importantissimo, la diacronia nella progettazione e esecuzione dell'opera spesso vuol dire un finanziamento delle risorse messe a disposizione piuttosto che no, quindi seguire le linee guida è sicuramente un modo anche di realizzare quel linguaggio comune tra proponente e valutatore che consente di trovare spesso e volentieri delle soluzioni concordate e efficaci dal punto di vista sia della progettualità che della tutela ambientale. Quindi sono strumenti utilissimi e sono altrettanto utili anche gli ulteriori pubblicazioni specialistiche che ISPRA mette a disposizione del pubblico. Non bisogna mai inventarsi nulla di nuovo dove esistono delle procedure, le procedure e i protocolli sono fondamentali perché garantiscono tipicità anche all'azione amministrativa del valutatore e quindi confinano quella che è la nostra discrezionalità facendo in modo che non si arbitrio perché a fronte di uno studio costruito su un protocollo e sulle linee guida ovviamente la risposta sarà una risposta coerente che segue le stesse logiche delle linee guida, quindi è anche una garanzia reciproca. Paola, c'è qualcosa a cui tieni particolarmente e di cui ci vuoi parlare? Tengo moltissimo agli aspetti della biodiversità perché è una delle grandi sfide della progettazione. Noi dobbiamo riuscire a vivere su questo pianeta insieme alle altre specie che lo abitano con noi che sono anche garanzia per la nostra sopravvivenza perché ci forniscono servizi ecosistemici oltre a servizi ecosistemici che sono anche spirituali, la bellezza di una passeggiata in un bosco, un tratto di spiaggia pulito, insomma sono sensazioni impagabili che vorremmo che la realizzazione di un'opera non mette a essere a pentaglio. Allora ogni tanto capita di leggere sulla stampa un fratino affermato la ferrovia, banalizzando un po' la biodiversità. Allora io ricordo sempre anche a tutti i nostri commissari che se la ferrovia è in grado di rispettare anche il fratino vuol dire che quella ferrovia è fatta bene e che sicuramente rispetterà anche la salute e la tutela dei luoghi a cui i cittadini tengono, una specie di stress test, quindi anche il più piccolo elemento di biodiversità ci deve aiutare. Mi piace chiudere con questa frase di questo antico filosofo greco, Protagora, che diceva che l'uomo è misura di tutte le cose. Non è un atteggiamento, direi, incentrato sull'uomo, ma potremmo tradurlo oggi con l'uomo forse non è misura di tutte le cose, ma le deve misurare tutte. Noi dobbiamo e abbiamo gli strumenti per misurare effettivamente gli effetti di quello che progettiamo anche dal punto di vista dell'impatto ambientale. E abbiamo anche le tecnologie per mitigare e ridurre questi effetti, quindi misurando in concreto le conseguenze di quello, positive spesso anche, di quello che facciamo, siamo in grado anche di valutare la bontà complessiva di un progetto oppure magari la necessità di rintervenire e di rimettere a posto quello che non va bene. Sono 40 anni che si applica la procedura MIA in Europa e sono cambiate tantissime cose. È una materia in continua evoluzione che si aggiorna e che per il fatto di essere trasversale, quindi di affrontare tanti argomenti, è interessante. Io in verità la trovo anche affascinante, solo che per questo abbiamo inventato questo modo di interagire con i cittadini in formula audio, perché andiamo dritti al problema, dritti al contenuto senza perci distrarre dalle immagini. C'è un grande desiderio di semplificazione, però semplificare non vuol dire banalizzare. Come ci dice il nostro premio Nobel Parisi, che ha analizzato il volo degli storni, che è una cosa bellissima, è la stigmergia, è la capacità di orientarsi in un mondo complesso, come fanno gli storni, guardando lo storno davanti, a destra, a sinistra, in modo di riorientarsi nel corso dei cambiamenti. Quindi semplificare non vuol dire banalizzare, vuol dire semmai nell'ambito della normativa ambientale, che è una normativa, lo dico da giurista, innervata da contenuti scientifici quanto pochi, perché il diritto dell'ambiente non deve dettare delle regole all'ecosistema, perché è impossibile, deve dettare delle regole a chi in questo ecosistema si muove per rispettare delle regole che sono naturali. Il giustnaturalismo ha un suo chiedi realtà. Allora, semplificazione vuol dire costruire pochi grandi principi generali che orientino una discrezionalità nell'ambito di queste decisioni che sono quanto mai importanti, decisioni relative alla compatibilità di opere, di azioni, di processi produttivi, attraverso la misurazione, che è l'elemento scientifico di base, e una razionalità dei processi decisionali e valutativi. In quest'ottica la semplificazione è sicuramente benvenuta e può produrre anche dei benefici sia sul fronte ovviamente del privato o del pubblico che progetta, sia sul fronte di chi all'interno delle amministrazioni deve decidere, deve valutare, deve autorizzare con grandi responsabilità e forse un po' più di serenità senza dover quindi confrontarsi, come dice qualcuno, con il terrore della firma. C'è questo grandissimo autore che tanti legano alla letteratura per l'infanzia, ma in realtà è un pozzo di ispirazione per gli psicologi, gli studiosi dell'uomo, delle scienze sociali che è Lewis Carroll, noto per aver scritto Alice nel Paese delle Meraviglie. Tra gli altri libercoli meravigliosi che ha scritto c'è questo testo breve che si chiama The Hunting of the Snark, cioè tradotto in italiano la caccia allo snaulo perché sarebbe una deformazione di squalo, in cui ci racconta questa navigazione di questo capitano e questi marinai, in cui i marinai a un certo punto celebrano il loro capitano perché gli ha messo a disposizione la mappa migliore del mondo per giungere in porto e questa mappa che viene raffigurata con questi caratteri tipografici antichi, con questo color seppia, è una mappa interamente vuota, con la sua cornice ma vuota. E questa è in certo senso la libertà, noi tutte le volte in cui dobbiamo progettare e valutare dobbiamo muoverci senza pregiudizi, senza preconcetti e dobbiamo riempire una carta vuota per raggiungere un obiettivo che ci costruiamo tutti insieme. Quello era un esperimento di autogestione, mettiamola così, ma che veramente è funzionale, all'esercizio di una discrezionalità e di un'attenzione nei processi di valutazione che hanno molto a che fare con il raggiungimento di uno scopo nell'ambito di una rotta che deve essere una rotta comune. Benissimo, grazie, ti ringrazio tantissimo Paola della disponibilità e ci rivediamo l'anno prossimo a Palermo. Grazie a voi, sarebbe bella, bellissima. Sì, senza dubbio. Mille grazie. Il bello della valutazione di impatto ambientale è questo, si parla di tanti argomenti, sono coinvolte tante persone, noi ne incontreremo tantissime, incontreremo proponenti, progettisti, valutatori, commissari via, incontreremo tutti i protagonisti per giungere a capire un po' di più di questa struttura complessa e dell'obiettivo comune che è la tutela dell'ambiente, come diremo sempre ad ogni nostra puntata, tutela dell'ambiente e della salute umana. Quindi vi lascio le parole di Lewis Carroll. Un giorno Alice arrivò ad un bivio sulla strada e vide lo stregatto sull'albero. Che strada devo prendere? Chiese. La risposta fu una domanda. Dove vuoi andare? Non lo so, rispose Alice. Allora non ha importanza, disse lo stregatto.